ciao ragazzi giovedì 26 allenamento di oggi allenamento simil combat nel senso che faremo le basi dei calci ok un lavoro a numero quindi dieci colpi per ogni tipologia di calcio e soprattutto si farà per dieci volte ok ogni giro completato due minuti di riposo i canonici quelli che facciamo sempre stiamo ci stiamo avvicinando alla fine del mese quindi gli allenamenti continueranno e poi dicembre ci sarà una piccola novità ok allora base kick molto semplice trarremmo dieci calci frontali dieci calci laterali dieci calci circolari e dieci calci rovesciati quindi 50 colpi poi ci fermeremo due minuti e riprenderemo il nostro lavoro per un allenamento abbastanza non carico a livello di fatica muscolare ma comunque lo sentirete alla fine dei dieci giri ve lo assicuro ok cominciamo a lavorare subito dieci calci frontali li facciamo tutti nella nostra guardia ok qualsiasi calcio lo portiamo sempre nella nostra guardia che sono destro mi raccomando tengo il sinistro in avanti ok ci siamo eh via ok comincio con la gamba dietro uno poi da qui posso può entrare subito due tre quattro o switchare 5 e poi ritorno 6 6 8 9 e 10 ok perfetto dieci colpi bene laterali mi giro sul fianco carico due cerco di guardare il mio obiettivo 3 guarda l'obiettivo 4 guarda l'obiettivo 5 guarda l'obiettivo 6 anche medio senza andare su 8 9 e 10 questi sono i laterali circolari due modi o mi fermo 1 senza switch 1 2 o vado oltre ecco lo switch vado oltre ok preferibilmente rimaniamo fermi così facciamo facciamo forza ok ripartiamo via 1 po di switch 2 tanto per muovere l'altro 3 po di switch 4 5 po di switch 6 7 un po di switch 8 9 un po di switch 10 perfetto rovesciati rovesciati rivero forte gamba avanti 1 apertura gamba dietro 2 2 2 già aperta 3 apertura 4 2 già aperta 5 6 7 apro 8 9 8 10 tutto qui molto 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 semplice ok workout semplice ma nei 10 giri lo sentite se siete belli allenati e pensate che sia troppo poco allora fate 10 per gamba e non 10 totali ok quindi colpi invece di 50 diventeranno 100 e voi aumentate il vostro carico di lavoro questo lo facciamo per 10 volte due minuti recupero tra un giro e l'altro online sempre primo pomeriggio www.italiandefenseacademy.com il nostro sito web italian defense academy official per quello che riguarda instagram italian defense academy per quello che riguarda youtube e il facebook se avete problemi contattatemi direct messenger numero di telefono google ci sono tutti i modi siamo comunque chiusi ma a disposizione ci vediamo domani con l'allenamento del venerdì che sarà una abdominal killer quindi rubo per un giorno il nome al corso che abbiamo qua per fare appunto una lezione del venerdì solo esclusivamente sugli addominali nei quali voi dovete abbinare della corsa se ci riuscite d'accordo ci vediamo domani osso grazie